Siamo con Romani, autore di un bellissimo gol sul calcio di punizione, partiamo da lì, descrivici. Una bella posizione intanto, una posizione che mi piace, dalla quale mi piace calciare. Sono stato fortunato che il fallo è stato fatto lì, quindi mi è andata bene, poi sono stato bravo. È stata una bella punizione, una bella soddisfazione per la prima partita, partire bene era importante, siamo contenti. Hai fatto una vittoria preziosa sia per la Coppa Italia sia forse per trovare fiducia in vista delle soglie in campionato. Sì, stiamo lavorando da un mese, non sapevamo cosa aspettarci dalla prima partita, è sempre un banco di prova importante per vedere come si è lavorato, a che punto siamo della preparazione, della condizione, quindi siamo contenti anche perché l'anno scorso punti così magari un po' sofferti li abbiamo lasciati un po' per strada, quindi aver vinto in questa maniera qua ci dà morale, ci dà fiducia e ci fa arrivare pronti per domenica dove ci aspetterà una partita difficilissima contro una squadra forte come il Carasco, quindi siamo pronti e siamo contenti di aver preso questi tre punti per iniziare. L'ultima cosa, lì davanti quando vi muovete mettete sempre paura alle squadre avversari? Sì, il sistema ha collaudato da due o tre anni, oggi un po' meno del solito perché abbiamo faticato un po' di più, un po' per il campo adesso siamo abituati un po' di più al sintetico, però non è una scusa, abbiamo anche qualche giocatore nuovo, dobbiamo trovare la miglior condizione, però ci troviamo bene, quelli nuovi sono tutti giocatori bravi, bravissimi ragazzi, quindi presto siamo sicuri che saremo al 100%, ci potremo divertire come abbiamo fatto anche gli altri due anni. E con questo anche chi vi verrà a vedere? Speriamo, speriamo di farvi divertire, di far divertire la gente, di divertirci e di portare a casa più punti possibili.